Il giudo è stato creato da Gigoro Cari amici spettatori, oggi siamo ospiti della scuola lievi guardie di pubblica sicurezza di Nettuno per rispondere alla domanda del signor Bruno Siracusa di Torino, il quale desidera sapere chi ha introdotto il giudo in Italia e qual è la sua tecnica. Il maestro Carlo Letti, direttore del centro accademico di giudo di questa scuola, le darà tutti i raguagli possibili. Il giudo è stato creato da Gigoro Cano ed è stato introdotto in Italia dal sottoscritto. Per quanto riguarda la seconda domanda, gli allievi del centro accademico daranno una dimostrazione pratica. Adesso si eseguirà il Kime Waza, l'arte della difesa. Difesa dal colpo di pugnale, in questa azione lei deve fare attenzione, prima il colpo alla gola, vero che è liquido l'avversario, secondo la compressione con la gamba del bicipite brachiale e il disarmo, cioè l'arma col piede. Amici spettatori ora una sorpresa, col signor Siracusa vi faremo assistere ad un incontro internazionale di giudo che sta per iniziarsi sul tappeto di questa scuola. Come vedete gli italiani più decisi e volitivi passano subito all'attacco, mentre gli svizzeri più lenti si tengono sulla difensiva. I nostri, meglio preparati, vincono nettamente e conquistano l'ambito trofeo. Continuate a scriverci indirizzando le vostre cartoline a Settimana Incom, via Nomentana, Roma. Grazie amici spettatori.